Ma chi era quella persona? Non so, ma non è uno di qua. La favola moderna di una ragazza di campagna. E questa? Chi sarebbe? È la ragazza che viene ad aiutare in casa. Tra tante disavventure, incontrerà il vero amore. No, no, per favore, aspetta, non andare via, non andare via. Perché mi odi? Ah, non so, non so, Stellina. Non abbiamo speranze, nessuna. Lo so. Stellina, da lunedì al sabato, alle 13.20 e alle 16.